Sarà inaugurato il prossimo 8 aprile il Museo del Fiore di Sanremo. Nella storica villetta Winter, immersa tra le palme e di giganteschi ficus del parco di Villa Ormond, andrà così in scena la storia della floricoltura. Saranno esposte centinaia di foto storiche e reperti riconducibili ai pionieri della floricoltura, uomini e donne che, con uno straordinario lavoro e in manefatica, hanno trasformato l'arida terra ligure e le tipiche terrazze in uno straordinario giardino. Lo spazio espositivo è un tuffo nel passato, tra nostalgia e ricordi, attraverso le vicende e gli attrezzi del mestiere e degli ibridatori di garofani e rose che hanno costruito il periodo d'oro della floricoltura.